Parliamo della valorizzazione dei prodotti che si ottengono da questi grani antichi. Bisogna dire che questi processi, queste filiere che si sono formate per trasformare i grani antichi in farina e poi in pane oppure in pasta, sono dei processi produttivi un po' particolari, perché questi prodotti sono prodotti non convenzionali, quindi sono molto differenziati. Una serie di operatori devono coordinarsi fra di loro e cooperare per portare avanti delle operazioni che non sono standard fondamentalmente. Per esempio i grani antichi sono molto alti, quindi possono allettare con facilità e se il contadino raccoglie, anche se il grano è allettato, ci possono essere problemi qualitativi che poi vanno ad impattare sulla qualità della farina e sulla qualità del grano. Questo comporta appunto la necessità di coordinamento fra gli operatori e collaborazione. Ora, la collaborazione fra gli operatori economici non è una cosa spuntata, ma è un'operazione che si può realizzare se si verificano certe condizioni. Noi abbiamo riscontrato che c'è uno straordinario parallelismo tra le azioni che sono messe in campo per valorizzare questi grani antichi e le azioni che sono state studiate per la gestione in comune di risorse collettive di tipo naturale, possono essere un pascolo oppure una riserva di pesca. E queste azioni che tipo di problematiche presentano? Allora, una è che la risorsa deve essere ben definita, nel nostro caso potrebbe essere costruire, mantenere la reputazione e la qualità di tutto il processo produttivo che abbiamo visto non è semplice. La seconda è che bisogna ben definire per che cosa si collabora. Io direi che in queste filiere si collabora per ottenere un prodotto di qualità maggiore che quindi ha più valore, diciamo, genericamente. Poi bisogna vedere anche chi collabora, le caratteristiche di chi collabora. Ora, tipicamente per mettersi d'accordo e per cooperare, meno siamo in un certo senso meglio è, perché ci si può conoscere, ci si può controllare meglio fra di noi. Meno siamo bisogna anche vedere chi siamo, c'è chi dice che bisognerebbe essere tutti uguali perché abbiamo tutti gli stessi obiettivi e quindi è più facile mettersi d'accordo, ma può darsi, come succede in queste filiere, che se ognuno fa bene il proprio lavoro è bene anche se ci siano soggetti differenziati. Quindi agricoltori, mugnai che sanno fare bene il loro lavoro e, diciamo, fornai che sanno bene fare la panificazione.